Udcide è capitato nella città di Salerno con l'abbandono ratificato da una lettera di dimissione irrevocabile da parte del segretario cittadino Nico Miranda e dall'unico consigliere comunale nel capoluogo Leonardo Gallo. Una decisione formalizzata ai vertici regionali e provinciali ai quali sono state contestate le politiche adottate negli ultimi tempi, annunciando di poter restare nell'area moderata avviando un discorso con il Centro Democratico di Tabacci. La città di Salerno è stata un po' lasciata a se stessa, salvo poi che il momento del pericolo si chiede al consigliere, nemmeno tanto collegialmente, quasi si voglia imporre una volontà per accordi che il consigliere o non conosce o non sa, quindi a distanza di sei anni era inevitabile che io avessi dovuto prendere una decisione. Ne ho parlato mercoledì in una riunione del Comitato Provinciale, ho esposto le mie difficoltà anche umane dovute a questa carenza e poi gli eventi sono precipitati perché la situazione secondo me è addirittura peggiorata. Se non c'è prospettiva in una compagine che vuole rappresentare il Centro, vuole crescere e vuole dare significato alle proprie scelte, se non c'è questo evidentemente io non mi posso partecipare. Gallo resta in ogni caso in maggioranza nonostante abbia abbandonato l'altro giorno la riunione con gli altri consiglieri di centrosinistra per incomprensioni con il sindaco Napoli che avrebbe disertato un incontro promosso dall'avvocato salernitano sulla raccolta differenziata a Sant'Angelo d'Ogliara. Da verificare a questo punto la posizione dell'assessore Falcone che era e resta espressione dell'Udc. Abbiamo atteso per un'ora e mezza e il sindaco senza nessun avviso non è venuto. Questo per me è stato un segno antipatico, sgradevole non solo nei confronti di un consigliere della sua maggioranza e tale rimango ma io ritengo nei confronti dei cittadini che meritano un rispetto differente, un riguardo quantomeno di essere avvertiti. Grazie